salve a tutti oggi vedremo come realizzare dei bellissimi tour virtuali con google tour creator data la recente esperienza che ho fatto con le mie classi con le quali abbiamo realizzato un tour virtuale della scuola da mostrare durante le giornate di orientamento e un tour tra le bellezze l'isola dischia turi che adesso condividerò con voi farò vedere poi vi spiegherò passo passo in questo tutorial come creare questi tour partendo da foto a 360 gradi è stata un'esperienza didattica molto interessante dal punto di vista formativo perché i ragazzi hanno scritto i testi hanno fatto ricerche registrare le narrazioni ma anche dal punto di vista tecnico perché hanno imparato ad utilizzare questo nuovo strumento digitale i tour sono fruibili sia da pc che attraverso un visore di realtà virtuale e a un telefonino proprio in modalità realtà virtuale che è quella che abbiamo mostrato durante l'orientamento poi vi spiegherò tutto nell'articolo collegato a questo video vi ricordo i miei contatti didattica innovativa.com prof redlor su facebook e il mio canale youtube lorenzo redaelli iscrivetevi se avete gradito il video e mettete un mi piace buona lezione adesso vediamo come scattare delle foto a 360 gradi attraverso street view l'app di google apriamo dunque l'app aspettiamo che carichi e clicchiamo sul pulsante arancione se avete una macchinetta a 360 gradi potete collegarla oppure cliccate su scatta fotosferica vedete l'app vi guida attraverso questi cerchi arancioni che voi dovete semplicemente inquadrare muovendovi su voi stessi ovviamente essendo una foto a 360 gradi non dovrete completare soltanto lo spazio attorno a voi lateralmente ma anche sopra e sotto in pratica dovete riempire tutto lo spazio grigio sempre seguendo questi cerchi arancioni e adesso ho tagliato perché ci vogliono circa 3 4 minuti anche 5 per fare una buona foto sferica riconoscerete che ho fatto registrazione nel parco antistante la regia di caserta e c'è un indicatore che si di completamento che si riempie man mano e una volta riempito tutto lo spazio grigio diviene verde a quel punto cliccate sul pulsante al centro e aspettate che la foto venga processata dall'app c'è una barra di avanzamento arancione come potete vedere una volta processata cliccate sulla foto e ovviamente non la pubblicate ma cliccate sul pulsante condividi e scegliete come condividerla io l'ho salvata sul mio drive le date un nome rappresentativo e adesso la foto è pronta e salvata ovviamente potrebbe essere necessario qualche ritocco adesso vediamo come farli se fosse necessario apportare alcune modifiche alle foto come ad esempio sfocare un volto o correggere qualche errore potete utilizzare se lo avete un programma professionale come quelli della suite adobe altrimenti un programma gratuito come gimp scaricabile all'indirizzo gimp.org cliccate su download lo installate il programma si presenta così apriamo ad esempio la foto scattata prima come vedete nelle foto a 360 gradi è comune che possono avvenire le scarpe ci sono due modi per correggerlo uno potrebbe essere quello di utilizzare una selezione ellittica disegnare quindi un'ellisse fare filtri sfocature effetto pixel e questo è un effetto molto comune quando si vogliono sfocare i volti un altro ritocco potrebbe essere quello di selezionare un quadrato o anche un'ellisse come si vuole fare ctrl c ctrl v e spostare la parte copiata su quella che si vuole coprire il programma ha tantissime funzioni che vi consiglio di esplorare tra l'altro sul sito trovate anche una pagina dedicata ai tutorial adesso vediamo come creare il tour innanzitutto andiamo su tour creator e clicchiamo new tour andiamo un titolo al tour una descrizione e volendo anche un'immagine di copertina ne metto una a caso clicchiamo su create il programma ci offre la possibilità di caricare immagini da google street view oppure di caricare immagini che abbiamo scattato noi faremo entrambe le cose iniziamo da street view prendo una strada della città possiamo aggiustare andare avanti e indietro fino a raggiungere il punto desiderato e poi premere add scene diamo un titolo volendo una descrizione possiamo aggiungere una musica di sottofondo e la narrazione così come anche dei punti di interesse anche per il punto di interesse diamo il titolo possiamo aggiungere la descrizione la narrazione e in questo caso anche un'immagine che si attiverà quando il punto di interesse viene cliccato io per esempio metto il mio logo ovviamente va ridimensionata se è troppo grande ecco qui una volta aggiunti tutti i punti di interesse e le descrizioni possiamo fare add scene adesso carichiamo la foto scattata da noi eccola qui possiamo aggiungere la location la descrizione la musica di sottofondo la narrazione e anche in questo caso possiamo aggiungere dei punti di interesse ad esempio mettiamo la stazione altra funzionalità interessante è quella che possiamo selezionare la vista di partenza quando si apre la scena set starting view selezioniamola e poi clicchiamo su save adesso non ci resta che aggiungere le narrazioni vediamo come ci sono molti modi per registrare le narrazioni io uso questo programma gratuito che si chiama audacity lo potete scaricare da audacityteam.org cliccando su download lo installate e per registrare vi basta cliccare sul tasto record la regia di caserta è la residenza reale più grande al mondo per volume è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dell'unesco fu costruita per volere del re di napoli Carlo di Borbone cliccate su stop quando avete finito la regia di caserta è la residenza reale più grande al mondo è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dell'unesco fu costruita per volere del re di napoli Carlo di Borbone se siete soddisfatti della registrazione potete salvarla qui potete aumentare il guadagno ci sono tante opzioni che poi vi consiglio di esplorare una volta fatto andare su file, esporta esporta come mp3 andiamo sul desktop cliccato ok poi tornate in al tour creator e aggiungiamo la narrazione alla scena non al punto di interesse qui select un audio file e lo aggiungete adesso quando la scena partirà si sentirà automaticamente la narrazione le narrazioni inserite nei punti di interesse partono soltanto quando il punto di interesse è cliccato a questo punto il vostro tour è pronto vi basterà cliccare su publish scegliere se pubblicarlo in modalità pubblica ossia che appare nell'elenco di poli oppure modalità unlist che significa che soltanto chi ha il link potrà visualizzarlo dall'elenco dei vostri tour potete facilmente andare sul tour pubblicato cliccando sui tre puntini view publish tour adesso vediamo come visualizzare il tour in modalità realtà virtuale una volta pubblicato una volta pubblicato il tour su poli potete visualizzarlo in modalità realtà virtuale direttamente dal telefono come fare? aprite il link su poli sul telefono poi cliccate sulla rotellina attivate la narrazione e infine sulla mascherina enter via air mode inserite dunque il telefono nel visore di realtà virtuale e muovete la testa per puntare i punti di interesse con quel pallino bianco cliccate poi con un telecomando bluetooth vi lascio la descrizione sia del visore che del telecomando che uso io nell'articolo e quindi potete attivare i punti di interesse cliccando su un punto qualsiasi della scena invece attiverete il menu per cambiare scene sempre puntando col puntino bianco e cliccando potete cambiare scene e questo è tutto l'esperienza diventa così veramente immersiva vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao